Oggi vediamo il presente indicativo di uscire venire e dovere questi verbi hanno una struttura simile ok quindi conviene impararli assieme vediamo uscire esco esci esce usciamo uscite escono è completamente irregolare o la coniugazione di alcune persone di questo verbo segue le regole del presente regolare metti in pausa il video e osserva il verbo allora innanzitutto vediamo che le prime tre persone e l'ultima sono irregolari ci può aiutare ricordare che per formare la terza persona plurale cioè loro nei verbi inire e nere e questo uscire un verbo inire si può prendere la prima persona e aggiungere n o no io esco loro escono questo funziona io direi nel 99,9 per cento dei casi quindi questo verbo alle prime tre persone irregolari l'ultima irregolare mentre noi e voi sono perfettamente regolari le terminazioni del verbo cioè o i e i amo i te o no sono regolari per ricordarci la prima persona ci può servire ricordare che quello che fa è semplicemente sostituire la u di uscire con una e quindi non io usco ma io esco il verbo dovere ha una struttura simile a uscire la prima persona plurale noi è molto diversa dobbiamo se ci pensate bene ricorda un po il verbo avere no noi abbiamo metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo dovere io devo tu devi lui deve dobbiamo dovete devono vedete che anche in questo caso l'irregolarità delle prime tre persone e dell'ultima è semplicemente la sostituzione della o in una e e poi purtroppo ci dobbiamo ricordare noi dobbiamo che diverso ma il voi è perfettamente regolare un altro verbo simile è il verbo venire se la vostra lingua materna e lo spagnolo sapete lo spagnolo io vi consiglio di italianizzare il verbo venir spagnolo e di ricordarvi la per così dire regola di come si forma nei verbi inire e inere il loro in questo modo diciamo che il verbo lo sapete già non dovete nemmeno studiarlo se non sapete lo spagnolo quando imparerete lo spagnolo vedrete che è molto simile al verbo venire italiano metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo venire ed eccolo qui io vengo tu vieni lui viene noi veniamo voi venite loro vengono il noi e voi sono regolari la prima persona singolare è io vengo e la terza persona plurale è loro vengono quindi la regola del io più no per formare loro funziona io vengo loro vengono nel tu e nel lui la e cambia e diventa i e quindi non non è tu vieni ma tu vieni e lui viene da aggiungere solo che la stessa struttura ce l'abbiamo anche nel verbo preferire che abbiamo visto nel video dei verbi regolari